Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, io sono Tair e oggi vi mostrerò dove trovare tutti e 12 ricordi nella nuova segreta dualità. Spero di esservi stato di aiuto con questo video e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! L'epoca mondo che conosce solo la guerra non ha futuro. Non siamo sempre stati conquistatori, non siamo sempre stati piedi. Se la violenza ha scolpito la forma che abbiamo, che la violenza sia ciò che la distrugge! Finale! No Sì, 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 sì. Are you on? No Sì Nell'ami Nell'ami Ora la voce È più bella di qualunque stessa io abbia mai visto Il suo nome è Kayad Come l'astro più pregnante del cielo Possa lei sempre superarne a fulcure Ho raggiunto i limiti Di ciò No Grazie a tutti.